È stato un sindaco che ha saputo interpretare il ruolo non fermandosi alle cose che si potevano fare solo nell'ambito del suo mandato, quindi ha sempre guardato in termini di prospettiva, ha avuto delle intuizioni geniali, questa del Museo archeologico è una di queste, ma non è la sola. È il sindaco durante il cui mandato Mantua è esplosa, è passata da piccola città di provincia e quasi di campagna, in una città invece da respiro internazionale, ha saputo mettere al centro la sua vocazione storico-artistica e ha saputo sfruttare positivamente un momento positivo che era per tutta la comunità nazionale.